Salve amici del Centro Meteo Italiano, prosegue ancora per diversi giorni il dominio dell'anticiclone, possibile cambiamento però a partire dal prossimo weekend. Situazione sinottica che nei prossimi giorni vedrà un robusto anticiclone disteso verso il Mediterraneo mentre una profonda circolazione depressionaria si muoverà verso la Scandinavia. Condizioni meteo ancora stabili in Italia ad eccezione di qualche isolato fenomeno pomeridiano sulle zone interne del sud. Temperature in lieve diminuzione ma ancora ben al di sopra delle medie del periodo. Tra il weekend e l'inizio della prossima settimana sia il modello GFS che CMWF mostrano un cedimento dell'alta pressione e l'inserimento di correnti umide che potrebbero portare un po' di piogge sulla nostra penisola. Trattandosi di tendenze seguite però tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.